le faccio vedere un panino come viene fatto guarda qua guarda qua ci facciamo mancare niente oggi lo metti che poi li da fuoco faccio vedere il panino infuocato non perché c'è piccante che ovviamente è piccante eccolo qua un valpainozzo questo passeggiato è per sopra questo ecco all'atto ho detto che gli dava fuoco voilà vai qui ci vuole arte per fare questo vedi il coteletta si scioglie è buonissimo così lo mangi anche bello caldo voilà panino infuocato guardate che lavori addio colesterolo una volta si può mangiare e ovviamente il professionista sta a serio perché giustamente guarda qua ecco qua guarda qua il panino è quasi pronto un po' di sopra ancora un po' di carnetta guanchù voilà come direbbero i francesi la jason fede allora eccoci qua con il panino quello infuocato la procedura l'avete visto ora vi faccio vedere l'altra procedura quella dove si mangia me l'hanno tagliato come vedete a metà ora andiamo ad assaggiarlo deve essere buonissimo mamma mia alla vostra buonissimo ve lo consiglio eccolo qua ve lo consiglio c'è anche barcode è buonissimo ストica non veppa o domani un bel panno domani vedo l'vitismo ciao Ciao!